Ciao a tutti, mi chiamo Carlo, ho 19 anni, sono studente di ingegneria gestionale, sono di Napoli. Ho conosciuto Cordon Hattard circa due mesi fa, conosco Cordon Hattard circa da due mesi grazie all'azienda con cui stiamo collaborando, collaboriamo insieme. L'ho conosciuto per la prima volta al vivo a Barcellona, visto che lui è di Malta e sono di Napoli. L'ho conosciuto per la prima volta da vicino, quindi fuori dall'online a Barcellona in un'occasione appunto di un evento aziendale della nostra azienda. Cordon è una persona generosissima che mi sta dando una grandissima mano a sviluppare e a migliorarmi in quello che è il concetto di cui stiamo collaborando insieme. Se vi trovate su questo canale è perché appunto ritenete Cordon una persona che vi può dare una mano e fate tutte le domande che volete e lui sarà sicuramente disponibile a chiarimenti e a darvi una grossa mano. Quindi grazie, grazie a tutti. Cordon number one, Mr. Gordon.